Lo so, mi dispiace, non sono stato bravo. Avrei dovuto fare uscire un video su un portafoglio fatto di sole aziende europee. Però mi perdonate, con questo 1400% abbondante fatto solo con gli etf. Mi perdonate? Eh? E per cui siamo arrivati a una nuova puntata di questa famosa serie in cui faccio portafogli che dovrebbero rendere tutti ricchi e famosi. In realtà questa settimana doveva uscire un video fatto di aziende sole europee. In realtà dovevano essere 10 ma forse starei puntando alle 15 visto che di nazioni nell'Unione Europea ce ne sono tante e di aziende ancora di più. Però ho voluto prendere tempo perché questo particolare portafoglio mi sta prendendo tanto tempo e orientarmi su un portafoglio fatto di sole etf. Dall'altro settimana prossima cercherò di fare un altro video che mi avete richiesto e cioè ci fai vedere Pasquale come fai a selezionare queste etità, queste azioni, queste obbligazioni, questi etf per fare questi portafogli? E sto pensando di farne uno in tal proposito. Mentre scelgo queste aziende europee non sono ancora sicuro se farla come live o farla come video registrato. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto così ci organizziamo. Come sempre nel video faremo prima una disamina dei 10 etf, ne parleremo in tutti gli aspetti che ci interessano, poi faremo la nostra analisi tramite il file excel che faccio sempre per ogni video in cui in questo caso aggiungeremo anche i ter e la tipologia di etf che siamo andati a selezionare e infine il famoso forecast, quello che ci dirà quanto sarà il nostro yield on cost alla fine del periodo che prenderemo in esame, quale sarà il rendimento appunto sempre alla fine di questo periodo e quindi cosa ci possiamo aspettare per il futuro. Vi ricordo che a parte questo video dove andremo a vedere quasi tutto su Just Etf, ma i dati li ho preso da un altro sito, lo sito che si chiama Ex Etf, del quale non ho un link affiliato ma ce l'ha il mio amico e collega Lorenzo di investire in borsa a cassa e dividendi per cui se volete trovare anche le informazioni che ho trovato io per questo video iscrivetevi tramite il suo link. Per tutti gli altri video invece ho usato Seeking Alpha che non mi dà un milione di euro come potete immaginare per fare questi video, ma se vi iscrivete tramite i link affiliati che trovate qui sotto in descrizione potete ricevere voi degli sconti eccezionali e in un modo o nell'altro andate a sostenere il canale. Partiamo con questi 10 Etf. Il primo Etf è quello che ci renderà di più in termini di capital gain e meno in termini di prestazioni da dividendo, ma è quello che avrà la crescita del dividendo più ampio. Andiamo a scoprire qual è. Il primo Etf come abbiamo detto è un azionario e segue il Nasdaq, è il ticker EXXT ed è l'iShares Nasdaq Centro. Ovviamente abbiamo un Etf che segue uno degli indici più importanti, più performanti degli ultimi 20 anni penso. Qui vediamo alcune informazioni come il TER, il tipo di distribuzione, la replica e la dimensione del fondo, cose che ci interessano e non ci interessano perché poi molti di questi dettagli e molti di questi dati li andremo a vedere all'interno del solito file Excel che io vado a prepararvi di volta in volta. Comunque dimensione del fondo che è di 4 miliardi quasi e 3, 101 partecipazioni, non c'è bisogno di presentazioni, è un Etf che va a seguire il Nasdaq 100 e che al momento ha una distribuzione dello 0,47%, ma non allarmatevi perché abbiamo distribuzioni molto più alte. Perché come ho detto all'inizio del video, questo portafoglio deve portare oltre alle distribuzioni, per cui oltre anche ai dividendi, una performance di capital gain e questo Etf ci aiuta tantissimo. Andiamo a guardare anche i mesi in cui questi prodotti vanno a distribuire i dividendi, per cui questo aspetto non lo guardiamo in questo momento, lo guardiamo dopo perché ci interessa guardare anche quella che è la crescita del dividendo nel tempo e nel file Excel andiamo a vedere la crescita del dividendo degli ultimi 5 anni passati e andiamo anche a fare il forecast per quelli che sono gli anni futuri. Aziende ovviamente essendo il Nasdaq 100, Stati Uniti quasi il 95% e poi altri paesi quasi il 5,5%. Le prime 10 è inutile neanche andare a perderci tempo, abbiamo Microsoft, Apple, NVIDIA e tutte le altre che conoscete tutti. Per quanto riguarda i settori, informatica il 50%, telecommunication il 15%, beni volutuali il 13,5%, prima necessità il 6,5% e poi altri il 14,5%. Il secondo ETF è completamente diverso, anzi sta proprio dalla parte opposta perché? Perché va a guardare sempre gli Stati Uniti ma non l'azionario e neanche l'obbligazionario o quasi. Andiamo a vedere qual è. Il secondo ETF di questo portafoglio ha il ticker IS3L, l'iShare USD Ultra Short Bond, fondo delle dimissioni di quasi 700 milioni di euro, 632 partecipazioni e un terzo dello 0,09%. L'indice replicato è l'iBox US Liquid Investment Grade Ultra Short e quindi sono le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in dollari statunitensi con rating investment grade che hanno scadenza da 0,1 anno per il tasso fisso e da 0,3 anni per il tasso variabile. Il rendimento da dividendo nel 2023 era del 4,93%. Io per tutti quanti gli ETF oggi vado a prendere il dato del 2023 perché il 2024 ancora non si è concluso, per cui questo dato di un anno non lo vado a prendere in questo momento. Partecipazione, abbiamo tutta una serie di partecipazioni societari, vediamo qui gli Stati Uniti sono circa il 60%, abbiamo il Canada col 5%, il Regno Unito col 3,5%, il Giappone col 3,2% e poi altre nazioni col 28%. Per cui questo ETF anche è molto esposto agli Stati Uniti ma andremo a ribilanciare durante quello che è il corso di questi ETF perché ovviamente gli ETF non saranno tutti Stati Uniti ma cercheremo di bilanciare e ribilanciare questa estrema preponderanza verso gli Stati Uniti con altri asset. Il terzo e il quarto ETF sono fratelli o fratelle e sorella, pensate un po' voi perché uno va a seguire un determinato indice ma lo fa principalmente per quanto riguarda il mercato americano, mentre la sorella o il fratello gemello, chiamatelo come volete, va a seguire più o meno lo stesso indice ma per un mercato più ampio, quello mondiale e uno di questi due ETF è il mio preferito, proprio preferito preferito, proprio tanto tanto. Andiamo a vedere quali sono. Il stesso ETF ha il ticker FUSD, Fidelity US Quality Income, fondo da un miliardo di dimensione, 0,25 di terra e partecipazioni sono 100. Replica questo indice, società statunitensi a elevata qualità che offrono alti rendimenti da dividendo. Infatti andiamo a vedere i dividendi. Al momento il dividendo è del 2,41% e per quanto riguarda le partecipazioni abbiamo una leggera sovrapposizione con quello del Nasdaq ma è leggermente diverso perché è vero che abbiamo Microsoft, Apple e Nvidia ma abbiamo anche l'iLily, Visa, Mastercard, Potter & Gamble che non erano inizialmente nell'ETF sul Nasdaq. Ovviamente essendo un ETF solo sugli Stati Uniti abbiamo il 95% di ponderazione verso gli Stati Uniti, Svizzera non si sa come l'1,66% e altri il 3,29%. Come settori informatica il 35%, la salute il 12,5%, beni voluttuari il 10,5%, finanza 9,23% e poi altri settori con un 33% circa. Per il quarto ETF uno di quelli più amati da me, FGQI è il ticker Fidelity Global Quality Income e questo ovviamente l'ho presentato anche in un live con Lorenzo di investire in borsa a caccia di dividendi. Questo indice replica società dei mercati sviluppati, per cui incluso anche gli Stati Uniti, di elevata qualità che rafforna arrivato rendimento da dividendi. Un fondo col terra dello 0,40%, dimensione del fondo 597 milioni e partecipazioni 228. Andiamo a vedere queste partecipazioni e i dividendi. Dividendo che il 2023 aveva chiuso col 3,08%, ma quali sono le partecipazioni in questo ETF? Anche qui abbiamo una leggera sovrapposizione, ma essendo globale troviamo aziende nuove e in particolare mi riferisco a Novo Nordics, a SML Holding oppure Verizon che non erano presenti negli altri ETF. Anche in questo caso sovraesposizione verso gli Stati Uniti d'America con un 68%, però abbiamo il Giappone con un 6,2%, Francia con un 3,95%, Regno Unito con un 3,26% e poi altri paesi con il 18,46%, mentre per quanto riguarda i settori abbiamo informatica quasi al 27%, finanza un 12,7%, salute 11%, beni voluttuari 11% e poi gli altri settori che sono al 38,5%. Questo ETF è un altro dei miei preferiti. Non è il primo, forse il secondo è in terza posizione, lo adoro. Ha un problema, una diciamo doppia tassazione perché è domiciliato nei Paesi Bassi, ma nel computo dei 10 ETF secondo me fa poca differenza e lo vedremo poi quando faremo il forecast e anche il backtest, per cui non sfuggite perché questo ETF va a selezionare nel mondo dei veri leader. Il successivo ETF, anche questo è un mio amato, il TDiv, come il ticker, il FANEC Morningstar Developed Markets Dividend Leaders. 99 sono le partecipazioni, la dimensione del fondo è quasi 750 milioni di euro, con un terzo dello 0,38%. E questo indice va a prendere in considerazione le Large Cap Dividend Leaders che appunto sono quelle società che mostrano consistenza e sostenibilità nei modelli del pagamento di dividendo ed è composto da titoli a rendimento più elevato che soddisfano requisiti di selezione. Sono inclusi in questo indice esclusivamente titoli azionali di Paesi Sviluppati e sono filtrati in base a criteri di Environmental, Social e Governance. Se guardiamo i dividendi, attualmente il dividendo di questo ETF è del 5,28%, ovviamente sempre alla chiusura del 2023. Mentre le partecipazioni abbiamo un totale switch da quello che è stato prima, infatti gli Stati Uniti qui hanno solo un 21,7% di ponderazione, la Francia il 13%, il Giappone quasi un 11,5%, la Germania 12% e poi gli altri Paesi un 42,5%. È vero che troviamo Verizon al primo posto con un'azienda americana, ma poi abbiamo Total Energies, The Toronto Dominion Bank, Allianz, BNP Paribas, Sanofi e Mercedes-Benz Group. Per quanto riguarda i settori abbiamo un 38,2% per la finanza, servizi di pubblica utilità, le utilities un 12%, energetico un 12,5%, beni di prima necessità un 10% e poi altri settori un 31,6% circa. E non ci volevamo mettere anche un ETF che sia multifattoriale, non un fattore solo, non solo value, non solo momentum, non solo quality, tutti, multifactor. Questo ETF secondo me si adatta bene a questo portafoglio perché va ad aggiungere tutte quelle chicche che in alcuni casi gli altri indici non possono offrire. Vediamo qual è. Il successivo ETF è un HSBC Multifactor Worldwide Equity, un fondo di quasi un miliardo e due di dimensione, 457 sono le partecipazioni e un T dello 0,25%. Andiamo a vedere questo ETF che è un ETF a gestione attiva. Perché? Perché va a ribilanciare ogni volta queste aziende per il multifactor che sono value, momentum, quality e poi anche un basso rischio. Per quanto riguarda i dividendi abbiamo un 2,23% alla chiusura del 2023 e per quanto riguarda le partecipazioni sono orientati quasi al 62% verso gli Stati Uniti, Giappone 4,67%, Regno Unito 4,52%, Canada 3,84% e altri 25%. Informatica come settori è un 25,5%, Finanza un 17%, Industrial il 12%, Beni Voluntari il 10% quasi a 3% e poi altri settori un 35% abbondante. Troviamo in questo caso aziende americane fra le prime 10 che coprono un 20% della ponderazione e troviamo le solite Microsoft, Apple, Nvidia, Meta ma poi anche aziende come ExxonMobil, Johnson & Johnson e IBM. Il primo ETF è solo Europa e questo qui va a guardare delle aziende in particolare del mercato europeo. Quello in crescita, le growth e quelle grandi, big big big, quelle che non possono mancare in un portafoglio da investitore e da dividendo e se ne lo volete prendere in maniera singola questo ETF potrebbe fare al caso nostro per questo portafoglio. Vediamo qual'etf è. IQQG, iShare Euro Total Market Growth Large, 44 partecipazioni, TEL dello 0,40%, dimensione del fondo 322 milioni di euro e questo indice che le Euro Stocks Total Market Growth Large va a replicare i titoli azionari a forte crescita e a derivata capitalizzazione dell'eurozona in base a 6 fattori. Tasso PE, prezzo profitti, press earning, previsto, crescita dei profitti prevista, tasso PE trailing, crescita dei profitti trailing, tasso PE contabile IPB e rendimento da dividendi. Il dividendo a 2023 era l'1,13% e per quanto riguarda le partecipazioni abbiamo Francia un 37%, Paesi Bassi 25,5%, Germania 25%, Spagna 3,5% e altri Paesi un 8,38%. Informatica la fa la padrona con il 31,3%, con l'industria del 23,5% e beni voluttuari con il 21% circa. Poi abbiamo i beni di prima necessità con un 9% e gli altri settori con un 15%. Anche qui abbiamo ASML Holding, LVMH, SAP, Siemens, Schneider Electric, L'Oreal, Air Liquide, Airbus, Hermes International e Safran. Queste prime 10 posizioni coprono un 63% della ponderazione delle 44 totali del portafoglio di questo ETF. Questo è l'unico ETF settoriale, eh sì ce n'è solo uno di questi settoriali all'interno di questo portafoglio ma secondo me inserito ci sta bene perché va a seguire principalmente il mercato europeo, va a seguire principalmente aziende che sono per il mercato europeo le fondamenta perché è un settore, quello industriale e quello dell'energetico che sono secondo me le due colonne portanti del mercato europeo. Segue una i stocks, il 600 e andiamo a vedere di cosa parliamo. Andiamo a diversificare adesso in un settoriale. Questo è l'Ishare Stocks Europe 600 Industrial Goods and Services con un TEL dello 0,46%, una dimensione del fondo di poco al di sopra dei 200 milioni e 112 partecipazioni. È un settoriale perché questo indice va a seguire appunto il settore europeo dei beni e dei servizi. Per quanto riguarda i dividendi abbiamo un 2,09% alla chiusura del 2023 e le partecipazioni ovviamente siamo in Europa, andiamo a ribilanciare tutto quello che è stato gli Stati Uniti fino adesso. Abbiamo un 21% quasi di Francia, quasi un 17% di Germania, quasi un 18% di Regno Unito, Svezia un 11,5% e altre nazioni un 35%. L'industriale qui copre l'89%, l'informatica quasi un 5%, le materie prime un 2,22%, poi le telecomunicazioni un 0,29% e gli altri settori un 3,35%. Le prime aziende, le 10 partecipazioni, coprono quasi il 50%, per cui queste 10 aziende di per sé potrebbero già comporre l'intero indice. Un 9% della Siemens, poi abbiamo Schneider Electric con un 8,4%, Airbus 6,1,16%, Safran 5,26%, ABB 5%, Bay System che abbiamo visto sulla puntata dei dividendi inglesi un 3,21%, Atlas Copco 2,92%, Rolls-Royce un 2,77% e poi abbiamo Volvo e DHL. Questo ETF è il terzo mio favorito, però non è azionario e non è neanche obbligazionario, o quasi, e beh sì perché va a seguire delle obbligazioni societarie a brevissimo termine ed è di un emittente che non viene sentito molto spesso. Diciamo che non è fra i primi 3 o 4 famosi, ma per questo particolare ETF lo conoscono tutti secondo me. Andiamo a vedere di chi parliamo. Ritorniamo negli Stati Uniti ma in questo caso con il ticker STHY ed è il PIMCO US Short Term High Hield Corporate Bond. Dimensione di 276 milioni, TER 0,55 e 724 partecipazioni. L'indice è il BOFA Mary Lynch US High Dividend Constraint 0,5 e replica le obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi con rating sub-investment grade con scadenza 0,5 anni. Il dividendo qui è succosissimo, al momento è un 6,57% e come vediamo, come in tutte gli ETF, ma non lo vado a specificare perché è logica avendoli inseriti in questo portafoglio, sono in aumento. Partecipazioni che potete vedere per le prime 10 sono un 5,37% tutti Stati Uniti ma abbiamo un 66,5% Stati Uniti, Canada un 2,45, Regno Unito un 82, Bermuda un 1,36 e poi gli altri paesi 27,71. L'ultimo ETF forse il più scontato è forse quello che mancava. Come abbiamo visto ho messo tantissimo Stati Uniti d'America ma con degli ETF ben definiti. In questo caso secondo me mancava la chicca, quella dell'ETF che potesse seguire un indice ancora più ampio di quello degli Stati Uniti e infatti non abbiamo messo un ETF che eseguisse lo Standard & Poor's 500 ma metteremo questo che segue un po' tutto. Come ultimo ETF ho voluto inserire un ETF mondiale col ticker HMWD le CSBC MSCI World con una dimensione del fondo che sfiora i 9 miliardi, siamo 8 miliardi e 7, 1400 partecipazioni e un tell dello 0,15%. Ovviamente non ha senso andare a vedere qual è l'MSI World ma per chi fosse nuovo o novizio è l'indice che replica i titoli azionari dei 23 paesi più sviluppati in tutto il mondo. Per quanto riguarda i dividendi abbiamo un dividend yield dell'1,88% al 2023 e per le partecipazioni ci andiamo a esporre anche in questo caso molto degli Stati Uniti con quasi 68%, poi abbiamo un 6% Giappone, Regno Unito quasi un 4%, Francia quasi un 3%, altri 19%. Informatica la fa la padrona fra i settori con un 25,4%, finanza 13,3%, salute 11%, beni volutuari quasi un 11% e poi gli altri settori che coprono quasi un 39,5%. Come avete visto non ho inserito mercati emergenti, non ho inserito obbligazionale puro per vari motivi e non ho inserito materie prime perché ovviamente non vanno a proferire dividendi. Però adesso che abbiamo composto questo portafoglio con questi 10 ETF bisogna andare a vedere qual è il backtest, quanto hanno fatto in passato, quanto hanno reso e lo andiamo a vedere sul file Excel e poi andiamo a vedere al forecast. Vi ricordo che tutti questi ETF potete comprarli anche con Maxem che non sponsorizza neanche lui questo video ma che mi ha dato anche lui un link affiliato in cui potete sostenere il canale e siccome io non sono Gio Paperone e non mi tuffo nel deposito pieno di monete d'oro magari se volete iscrivervi utilizzando questo link affiliato, se dovete iscrivervi magari mi fate un gran piacere. Andiamo a vedere prima di tutto il file Excel e poi il forecast. Ed eccoci qui sul file Excel, sul prospetto che ci va a ricapitolare tutto quello che ci siamo detti e andiamo ad aggiungere anche delle informazioni in più. Trovate su questo file Excel i simboli, l'ISIN e il nome dell'ETF. Partiamo dal TER con un TER medio dello 0,32%, partiamo da un ETF, quello più basso come TER che è l'Ishare USD Ultra Short Bond con un 0,09% di TER e quello più caro è il PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond con 0,55% di TER. Per quanto riguarda il dividend yield attuale abbiamo quello più basso e ce lo potevamo immaginare tutti 0,47% del NASDAQ 100, quello più alto di tutti e continua ad essere il PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond con 6,57% seguito dal TDIV, il FANEC Developed Market Dividend Leaders con 5,28% che ci donano uno yield medio del 3%. Per quanto riguarda il dividend growth abbiamo quello più basso essere l'Ishare Euro Total Market Growth Large che aumenta negli ultimi 5 anni di media del 0,80% ma qui bisogna evidenziare qualcosa infatti perché la maggior parte dei titoli growth large dell'area Euro sono principalmente finanziari e bancari e ovviamente durante la pandemia c'è stato il taglio obbligatorio delle distribuzioni da parte dell'Unione Europea per cui io mi aspetterei che nel futuro questo dividend growth sia molto più alto dallo 0,80%. Se invece guardiamo le aziende che hanno aumentato maggiormente il dividendo abbiamo l'Ishare Nasdaq 100 con un 19,4% anno di aumento del dividendo e poi la Share US Ultra Short Bond con un 19,08% di aumento di dividendo con un dividendo medio aumentato nei 5 anni del 10,15%. Capital Gain ovviamente il Nasdaq negli ultimi 10 anni ci ha donato un 550% di rendimento per cui un caldo del 55% anno mentre quello più basso è stato il PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond con un 13% ma è vero anche che abbiamo un dividend yield molto più alto rispetto agli altri 6,57% per cui non possiamo avere sempre la pappa pronta per una media del 132% negli ultimi 10 anni di crescita comunque è un 13% di CAGR annualizzato che si unisce al 10% di crescita dei 5 anni del dividendo e al 3% di yield possiamo dire che abbiamo quasi un 15% di CAGR annualizzato. Per quanto riguarda le distribuzioni a parte il PIMCO che abbiamo appena citato che dà distribuzione mensile abbiamo un solo ETF semestrale l'iShare USD Ultra Short Bond che distribuisce a giugno-dicembre poi abbiamo tre ETF che fanno marzo, giugno, settembre e dicembre che sono l'iShare Nasdaq 100, il TDIV di Fanec e l'iQQG l'iShare Yield Total Market Growth Large Per quanto riguarda le distribuzioni a febbraio, maggio, agosto e novembre abbiamo entrambi i Fidelity sia l'US Quality Income che il Global Quality Income Per quanto riguarda invece le distribuzioni a gennaio, aprile e luglio e ottobre abbiamo le CSBC, entrambi, sia il Multifactor Worldwide che l'MCI World e poi abbiamo anche l'iShare AXH4 Stock Europe 600 Industrial Guards & Services Per quanto riguarda invece il settore abbiamo due azionari USA, due Bond Corporate un azionario europeo, due azionari globali, un azionario sviluppato e un settoriale europeo Ma adesso andiamo a vedere il forecast, quanto ci guadagniamo con questo portafoglio Come avete visto dati molto interessanti per quanto riguarda il FileExcel con il Nasdaq che ovviamente tutti ce l'aspettavamo avrebbe donato rendimenti maggiori ma non tutti si sarebbero aspettato, secondo me quasi nessuno che avrebbe donato la crescita maggiore da dividendo nel corso degli anni Negli ultimi cinque anni abbiamo sfiorato il 20% di aumento di dividendo anno Ovviamente questo fa solo ben sperare perché molte aziende da poco hanno cominciato a distribuire il dividendo nel Nasdaq, che parlo di meta, secondo me ci arriverà anche Alphabet e anche altre aziende nell'ambito del tecnologico puro Questo significa che queste aziende che hanno tanto cash potrebbero in futuro andare a aumentare fortemente il dividendo aumentando anche la crescita dei cinque anni successivi Inoltre come abbiamo visto anche per quanto riguarda il mercato europeo che ha subito una trattenuta dell'aumento dei dividendi durante il periodo pandemico quell'ETF potrebbe aumentare la crescita del dividendo nei cinque anni futuri per cui quel misero aumento di dividendo anno potrebbe diventare un aumento molto più importante Adesso andiamo a vedere il Forecast e andiamo a vedere se queste prospettive si andassero a verificare anche nel futuro quanti inghingeri si potrebbero fare e sono tanti. Partiamo sempre dal nostro principal di 10.000 euro divise 1.000 euro per ognuno di questi ETF come dividendo in tax rate ho messo il 26% anche se ci sono prodotti come il TDIV che hanno una doppia tassazione essendo residenti nei Paesi Bassi però come ho detto anche nei video passati un ETF non fa la differenza secondo me su tutti e 10 Dividendo attuale 3% è quello che troviamo anche nel prospetto La crescita del dividendo annuale l'ho messa e l'ho ottenuta al 10% perché mi sembra una crescita che può essere mantenuta nel tempo considerando che si tratta di ETF e per cui non si tratta di prodotti come azioni singole che possono far variare il nostro rendimento, la nostra crescita da dividendo nel tempo e come crescita dei prezzi di questi ETF anche questo l'ho mantenuta in media al 13% perché mi sembra che essendo ETF, essendo in mercati diversi contenendo anche settoriali questo si possa mantenere nel tempo e ovviamente i rendimenti come potete vedere sono quelli che menzionavo nel titolo e anche nella copertina un più 1.464% i nostri 10.000 euro investiti dopo 20 anni sarebbero diventati 156.500 euro e mezzo quasi 157.000 con dividendi più bassi rispetto agli altri video annuali perché qua abbiamo solo 2.700 euro di dividendo anno e uno yield on cost del 24,6% ma ci siamo portati nel nostro saccoccione un CAGR annualizzato totale fra dividendi e capital gain più 1.464% e possiamo vedere che anche qui dopo il decimo anno sia lo yield on cost che il dividend income che il portafoglio balance partono per la diritta perché essere sempre più in alto ovviamente come detto anche per gli altri video questi sono solo dei backtest e dei forecast non è la verità assoluta anzi ci sono tantissimi altri ETF che sarebbero potuti essere inseriti in questo portafoglio magari che perfumavano meglio o che avevano un dividendo migliore ma gli ETF ce ne sono a valanga e io non li posso conoscere tutti per cui chiedo la tua assistenza per magari darmi dei consigli qui sotto per dei video futuri da realizzare tramite solo ETF che magari siano da dividendo o chi lo sa magari anche per altre strategie di growth o per esempio di conservazione del capitale fatemelo sapere siete voi che mi supportate spero come sempre di aver dato un'ottica diversa per l'analisi di un portafoglio per la sua creazione in questo caso particolare solo di ETF che siano spunti di riflessione e non consigli di investimento per approfondire per conto vostro ricordate che vi voglio sempre tanto bene e noi ci vediamo a un prossimo video a presto ciao